Il treno alta velocità fraccia 183.32 di Trenitalia, nelle ore 15.35, proveniente da Reggio di Calatria Centrale e diretto a Roma Termini, è in arrivo a Milano 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea calda, che rompe dalla 1 alla 30, sta al treno, dalla 4 alla 6, dentro treno, dalla 6 alla 9, fu da treno.